Allora, apriamo il panino. Abbiamo detto il toscano kebab e salsa messico di questa ditta che si chiama traccia d'oro, che sarebbe in prati solo di scandiano a Reggio Emilia. Questo è il panino, due fette di toscano. Immagino quindi che il pane sia sciapito, o meglio sciocco, senza sale. Ecco, in mezzo due fettine, due di tacchino. E poi, wow wow, sotto il tacchino la meravigliosa salsa messicana. Si intravede del peperone, probabilmente del peperone rosso, prosciutto cotto, peperone verde, tacchino, toscano, pranzo di ferragosto. Grazie